Psss, psss, ne vuoi sapere di più, eh? La conoscete, l'avete vista? Certo che l'abbiamo vista, ci ha messi nel taschino della camicetta, proprio sul seno. È carina? No, non è male, non è male, è bella, è carina. Ma che vuole da me? Non ha un soldo, spera in una ricompensa in cambio dell'album, oppure fa collezione anche lei di fototessera. Giusto, e siccome a noi c'ha già, vorrebbe fare uno scambio con un pollo con gli occhiali.